Oggi è mercoledì, 7 novembre 2018 e partiamo subito con la ricerca di 7 RM di deadlift. Per quanto riguarda il WOD invece avremo un team da due, nel quale eseguiremo in 18 minuti unwrap, 5 deadlift, 10 burpees facing bar, 15 air squat e 20 sit-up. Il cambio tra uno e l'altro si fa solamente alla fine del round. Pesi carichi sulla grafica qui di fianco, sulle stories Instagram trovate lo svolgimento della classe, è tutto per oggi, a domani!